la mia lettura preferita 1945 infinite volte mi è stata posta la domanda che cosa preferisce leggere una domanda a cui è difficile rispondere per un amico della letteratura universale io avrò letto circa dieci mila libri parecchi più volte alcuni molte volte e per principio sono contrario a escludere qualsivoglia letteratura scuola o autore dal raggio della mia simpatia o anche solo del mio interesse eppure la domanda è giustificata e in certa misura può trovare risposta uno può essere un vero e proprio onnivoro e non disprezzare nulla dal pane nero al lombo di capriolo dalla carota alla trota eppure avere i suoi tre quattro piatti preferiti così come un altro ogni volta che pensa alla musica può riferirsi soprattutto a bach a hendel e a gluck senza per questo voler rinunciare a schubert o a stravinsky così se ci faccio caso in ogni letteratura mi imbatto in regioni in tempi in toni che sento più vicini e che mi sono più cari di altri tra i greci ad esempio ho più simpatia per omero che per i tragici per erodoto più che per tucidide devo confessare inoltre che i miei rapporti verso tutti gli autori patetici non sono proprio spontanei e mi costano un certo sforzo in fondo non li amo e la stima che ho per loro non è scevra di una certa costrizione si tratti di dante o di hebbel di schiller o di stefan george il territorio della letteratura universale che ho visitato più spesso in vita mia e che conosco forse meglio è la germania oggi apparentemente lontanissima e divenuta quasi leggendaria del secolo che va dal 1750 al 1850 quella germania il cui centro e la cui vetta è goethe a questa sfera dove sono al sicuro tanto da delusioni che da sensazioni faccio costantemente ritorno dopo ogni escursione nell'antichità e nell'esotico ritrovando quei poeti epistolografi e biografi che sono tutti buoni umanisti pur avendo quasi tutti la fragranza della terra del popolo particolarmente vicini mi sono si intende quei libri in cui il paesaggio la popolazione e la lingua mi sono noti e familiari fin da bambino leggendoli godo di quella particolare felicità che consiste nel cogliere anche la minima sfumatura anche l'allusione più nascosta anche la più lieve reminiscenza il ritorno da un libro simile a un altro che devo leggere tradotto o a uno che non possiede affatto questa lingua e questa musica organica genuina naturale mi dà ogni volta una scossa e un piccolo dolore e soprattutto nella germania sud occidentale nelle regioni linguistiche alemanna e sveva che trovo questa felicità basterebbe citare murike e hebel ma essa mi si offre in quasi tutti i poeti tedeschi e svizzeri di quell'età benedetta dal giovane goethe a stifter dal henrich stillings jugend fino a immerman e alla droste hülshoff e il fatto che l'enorme maggioranza di questi stupendi e amabilissimi libri oggi esista soltanto in un esiguo numero di biblioteche pubbliche o private costituisce per me uno dei sintomi più brutti e inquietanti della nostra epoca spaventosa ma il sangue il suolo e la lingua madre non sono tutto nemmeno in letteratura e al di sopra di essi c'è l'umanità c'è la possibilità sempre sbalorditiva e gioiosa di scoprire una patria nelle plaghe più estreme e remote di amare e di renderci in tal modo familiari le cose apparentemente più ermetiche e inaccessibili ne ho fatto la prova nella prima metà della mia vita coi prodotti dello spirito indiano e più tardi di quello cinese verso l'india almeno ero già avviato e predestinato i miei genitori e miei nonni erano stati in quel paese avevano imparato quegli idiomi e assaporato qualcosa dello spirito indiano ma che esistesse una meravigliosa letteratura cinese e una particolarità cinese di intendere l'esistenza e l'intelligenza umane che non solo mi potesse divenire cara ma ben più potesse offrirmi un rifugio spirituale e una seconda patria questo fino oltre i trent'anni compiuti non me l'ero nemmeno sognato accadde allora il fatto imprevisto che non avendo io fino a quel momento conosciuto altro della letteratura cinese che lo xi ching nella versione di rickert conobbi grazie alle traduzioni di richard wichelm e di altri un mondo senza il quale non saprei più vivere l'ideale cinese taoista del saggio e del buono a distanza di due millenni e mezzo ebbi la fortuna io che non conosco una parola di cinese e che non sono mai stato in cina di trovare nell'antica letteratura di quel paese una conferma alle mie intuizioni un'atmosfera e una patria spirituale come non ne avevo trovate fino allora se non nel mondo che è mio per nascita e per lingua questi saggi e maestri cinesi di cui ci hanno parlato lo splendido chuang chu li e zu e men ciò erano il contrario di spiriti patetici erano di una sorprendente semplicità e assai vicini al popolo e alla realtà quotidiana non se la lasciavano dare ad intendere e vivevano volentieri in una separatezza e in una sobrietà volontarie e avevano un modo di esprimersi di cui non finiremmo mai di stupirci e di gioire confucio il grande antagonista di lao zu sistematico e moralista legislatore e custode delle tradizioni morali l'unico tra i saggi dell'antichità che abbia un certo fare solenne e caratterizzato ad esempio anche in questo modo non è forse colui che sa che non è possibile eppure lo fa ugualmente il che è di una pacatezza di un umorismo e di una semplicità di cui non conosco in nessuna letteratura un esempio simile ripenso spesso a questa massima e a parecchie altre anche quando osservo gli avvenimenti mondiali e le dichiarazioni di coloro che hanno in animo di governare e rendere perfetto il mondo nei prossimi anni e decenni essi fanno come confucio il grande ma dietro la loro azione non c'è come lui la cognizione che non è possibile ne posso dimenticare i giapponesi benché mi abbiano occupato e nutrito infinitamente meno dei cinesi ma nel giappone che noi oggi conosciamo al pari della germania solo come paese bellicoso c'era e c'è tuttora dopo molti secoli qualcosa di grandioso e al tempo stesso di arguto qualcosa di profondamente spirituale ma anche decisamente brutalmente volto alla pratica come lo zen un fiore che deve certo qualcosa all'india buddistica e alla cina ma che solo in giappone giunse a pieno sboccio io ritengo che lo zen sia uno dei tesori più belli mai acquistati da un popolo una saggezza e una prassi di vita del livello di un buddha o di un lao zu e poi tra lunghi intervalli mi ha anche molto incantato la lirica giapponese soprattutto la sua ricerca della semplicità e della brevità assolute non è consigliabile leggere una lirica tedesca moderna dopo averne letta una giapponese al confronto di quelle le nostre poesie ci appaiono disperatamente gonfie e impettite i giapponesi hanno inventato cose veramente meravigliose come la lirica di 17 sillabe e hanno sempre saputo che l'arte non guadagna per nulla dal fatto di rendersela facile ma dal contrario così un poeta giapponese un tempo scrisse una poesia di due versi in cui diceva che nel bosco ancora coperto di neve c'erano fioriti alcuni rami di susino diede la poesia in lettura a un esperto e quello gli disse che un solo ramo di susino era più che sufficiente il poeta capì quanto l'altro avesse ragione e quant'egli fosse ancora lontano dalla vera semplicità e seguì il consiglio dell'amico così ancora oggi la sua poesia è indimenticata a volte si fa dell'ironia sull'attuale superproduzione libraria del nostro piccolo paese eppure se io fosse un po' più giovane e le forze mi bastassero non farai altro oggi che curare e pubblicare libri questo lavoro per la continuità della vita spirituale non dobbiamo né sospenderlo in attesa del giorno in cui i paesi belligeranti si saranno forse ripresi né esercitarlo come un affare di breve momento che approfitta di una congiuntura favorevole e che dunque non ha bisogno di eccessivi scrupoli la letteratura mondiale è messa in pericolo dalle nuove edizioni malamente e frettolosamente abborracciate poco meno che dalla guerra e dalle sue conseguenze e noi citiamo un po' più e io lascia con la guerra e poi si parla questa guerra e poi ci sono